Musica Ciao ragazzi, sono sempre io la vostra volta e oggi siamo su Geared World 2 Allora, abbiamo qua 5 scelte di razze La prima facciamo il Kerr, gli umani, i Norn, gli Asura e i Silvari Noi prendiamo ovviamente i umani, che mi piace di più Allora, possiamo prendere sia uomo che femmina, prendiamo la femmina Facciamo una femmina Ci abbiamo allora 6-8 classi, varie classi La guerriera, la guardiana, i Rangers, TAFE, penso sia il ladro o il genere L'ingegnere, nacromante, elementalist e Musmar Comunque, l'illusionista Comunque, prendiamo i Rangers, che mi piace di più Poi mettiamo anche quell'arco a distanza Ok, adesso vediamo, qua abbiamo la varia statura Posso fare più bassa e più alta Facciamo così Ok Poi facciamo il fisico L'aspetto fisico Più magra, più grassa Vediamo questo che è meglio di tutti Poi qua abbiamo il volto E' brutta questa Questa è bellina anche però Facciamo prima Ok, poi abbiamo l'acconciatura Questo tasto Allora Non mi piace così Anche così può essere carina Quelle codine Facciamo quella coda grande Ah no Anche così con le codine Volendo Poggiata sulle spalle Anche così è più carina Dove sta? Dove sta? Questa qua va Ok, qua possiamo scegliere il colore dei capelli Tra i nari Questo Bianco parlato Allora Dopo ci abbiamo anche altri Questo rosso mi piace più di tutti a me Infatti prenderò questo E qua c'è il colore dell'accessorio Cioè del fiocchetto qua Possiamo prendere tutti i colori Che vogliamo anche bianco Facciamo verde O azzurro O azzurro Azzurro Ok Qua c'è il colore degli occhi Questo colore qua è carino Ok Poi possiamo cambiare L'aspetto del naso E la bocca E il volto E il mento Qua possiamo scegliere Il colore dei vari Del vestito Allora sceglierei Quel colore Primo colore Scegliamo Verde Possiamo fare anche viola volendo Sì dai Il secondo arancio Quello di per spiccare un po' Quella cintura Ok Abbiamo anche l'arancio qua sul collo Come vedete Poi Ovviamente viola Verde e arancio E riscala facciamo viola Verde O arancio No viola meglio No Verde c'è Viene arancio Viene arancio Ok Qua possiamo scegliere il Possiamo prendere l'animale che vogliamo Tra questi tre Il dark Che dove possiamo un special Deligatore Stalker E l'orso Il beer Preferisco il Stalker Rispetto a questi due Ok Qua allora abbiamo Il carattere che abbiamo Ferocità Diligente O karma Facciamo il karma Allora Allora dove risiedo In strada Con Gente comune In un paese O nella nobiltà Facciamo Il paese Qua ci abbiamo Ricordo Mia sorella Dei due Patru Parent Poi I miei parenti Che non ricordo O In un circo Profumo Una professione In un circo Facciamo La sorella Qua ci abbiamo Le varie Di Di Come si chiama Della Dove ne vede Divinità Ecco Facciamo I Guai Greco Come vedete Questo qua E Quello Del nostro Ranger La divinità Che è Il Malandru Malandru E qua Possiamo Scegliere il nome Facciamo Vediamo se c'è C'è Ah no Il numero Sperale Allora Facciamo Priscilla Ok Priscilla Anas Vi lascio Il Sfilmato A dopo Un 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 Grazie a tutti. My friends and I don't seek attention or glory. It's hard enough making ends meet. But I believe we can still shape a brighter world out of the ashes of the past. Today, I stepped outside of Divinity's Reach to see the world. But when I arrived in Sheymour, the town was under siege by centaurs. Innocent villagers are in danger. Someone has to help. We can't go on living our lives in fear. I have to fight. I have to make a stand. This is my story. And I'll see you guys again. It's my side. We can find a way to work. You know what? Definitely stay alive. We have to improve.